Nessun rischio immediato di dissesto ma l'esigenza di recuperare crediti per dare una boccata d'ossigeno alle casse comunali ed evitare problemi in un futuro forse non troppo lontano. Chi può pagare paghi e l'appello rivolto dal sindaco Roberto Materia e i suoi concittadini nel corso di una conferenza stampa molto partecipata. Il primo cittadino ha consegnato alla stampa e numerosi consiglieri comunali e assessori presenti un prospetto dettagliato dei crediti vantati da Palazzo Longano e che il comune di Barcellona cercherà di recuperare. Oltre 15 milioni e mezzo di euro di crediti riguardano i rifiuti fino a tutto il 2016. Quasi 7 milioni e mezzo di euro l'acquedotto fino al 31 dicembre 2015. Oltre 3 milioni e 600 mila euro di crediti dallo Stato tra saldo trasferimenti di esercizio 2016, competenze di esercizio 2017 e rimborso spese sostenute per edifici giudiziari. Oltre 4 milioni e mezzo di euro di crediti contro la Regione tra saldo trasferimento esercizio 2016 e precedenti, competenze esercizio 2017, saldo esercizio 2016 del fondo per la compensazione degli squilibri finanziari, competenze esercizio 2017 del fondo per la compensazione degli squilibri finanziari. Per un totale complessivo di crediti vantati dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto di 31 milioni 347 mila e 814 euro. E il prospetto non indica i crediti di minore importo relativi a canoni pregressi per alloggi popolari e posteggi per mercato settimanale ortofrutticolo. Da qui l'appello del primo cittadino a mettersi in regola con i tributi.